Ma che è successo? Niente. Ma niente, sai la faccia? Siamo stati a Villa Bandini. Non c'è più nessuno. La stanno vendendo. Ma quindi non arriverai più con le ragazze? Stami a sentire. Quando avevo la tua età, e ci tenevo tantissimo una cosa, sai cosa facevo? Mi concentravo. Cominciavo a pregare, pregare, pregare. E poi la cosa, oh, accadeva. Ad esempio? Con tua madre. Quanto sei spiritoso? Niente. Quanto sei,